Era quasi mezzanotte quando dalla terrazza di Villa Devoto si è materializzata una densa nube bianca. A Bemus esecutiva Iunta. Escono di scena Mario Niedu, l'assessore del contrasto alla pandemia e della nuova gestione della salute nell'isola. Quirico Sanna, stritolato tra piano casa e legge di riordino del territorio, così come tutti i suoi predecessori all'urbanistica, sarà il nuovo capo di gabinetto del governatore. Gabriella Murgia, chiamata a gestire in agricoltura un compito forse molto più grande delle sue competenze personali. Confermati con le deleghe originali quattro soli assessori. Giuseppe Fasolino al bilancio e alla programmazione con la promozione alla vicepresidenza. Gianni Chessa al turismo, forte di uno straordinario consenso personale e di un forte impatto mediatico. Anita Pili, di Sardegna 2020, all'assessorato dell'industria, difesa d'oltranza da Lucio Tunis e dai centristi. E Andrea Biancareddo alla cultura, intoccabile il successore di Giorgio Oppi alla guida dell'Udc. Cambiano delega alla leghista Valeria Satta, che va dagli affari generali all'agricoltura. Ed il riformatore Aldo Salari, spostato dai lavori pubblici all'assessorato all'urbanistica. Le novità sono il capogruppo del carroccio in consiglio regionale Pierluigi Saiua e i lavori pubblici. Marco Porco, leader a Cagliari di Fratelli d'Italia, che va all'ambiente al posto di Gianni Lampis. Promossa agli affari generali, Andreina Farris, ex viceprefetto, assessora dell'industria e già capo di gabinetto dell'ambiente. Il chirurgo ed ex senatore del PISDAS Carlo Doria va alla sanità. Rimaneva da risolvere il nodo dei trasporti e l'ha spuntata il presidente dei sardisti Antonio Moro. Per la delega del lavoro, saltata l'ipotesi accreditata per un'intera settimana relativa a Marco Tedde, ha tagliato il traguardo ad Allai e salvato il futuro di Solinas, che da otto mesi rimandava il rimpasto.